Musica Rappinatori in azione in una farmacia di Erice Casasanta Tragedia all'ospedale di Pantelleria, neonato morto strozzato dalla cordone ombelicale Accusa prescritta di sequestrato il Selinunte Beach Hotel Sfiducia a Crocetta firmano in 25 fra deputati grillini e di altre fazioni Regione rimessa in discussione tutta la procedura delle SRR Calcio domani il debutto dei nuovi tecnici di Mazzara e Folgore Buon pomeriggio dal Tg8 Continuano le rapine nel territorio di Trapani e Erice Ieri sera ad esser colpita è stata la farmacia di Via Cosenza ad Erice Casasanta Ad agire due giovani a volto coperto che hanno fatto irruzione intorno alle 19.30 Uno dei due malviventi ha puntato la pistola contro i due farmacisti intimando loro di rimanere immobili Portato a termine il loro progetto i rapinatori si sono dileguati con il bottino ancora da quantificare Gli inquirenti non escludono che prima di entrare in azione i banditi abbiano eseguito dei sopralluoghi Anche per questo motivo gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere delle video sorveglianze Tragedia all'ospedale Nagarra di Pantelleria dove un neonato è morto strozzato dalla cordone ombelicale Un neonato è morto a Pantelleria all'ospedale Nagarra strozzato dal cordone ombelicale Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Marsala Un'altra procedura interna è stata aperta dall'ASP con una commissione della quale fanno parte Lo stesso dottor Francesco Giurlanda, il dottore Giuseppe Alletto capo dipartimento materno infantile Il dottor Angelo Caradonna, primario ginecologo di Marsala La dottoressa Carmela Arrigio, responsabile del rischio clinico Sarà l'autopsia disposta dalla Procura a stabilire le cause della morte del neonato Il decesso è avvenuto durante un parto cesare ad una giovane donna di 22 anni Giunta alla quarantesima settimana di gravidanza I carabinieri che si occupano del caso hanno sequestrato da cartella clinica Il tracciato eseguito dai medici per rilevare l'attività cardiaca del feto Si legge in una prima relazione depositata in Procura Non lasciava presagire questo esito Siamo dispiaciuti e addolorati, dice il sindaco di Pantelleria Salvatore Gino Gabriele Ed esprimo le mie conteglianze alla famiglia, in particolare alla mamma Che vive anche una sofferenza interiore Ma voglio anche dire, continua il sindaco Che tutto ciò è accaduto in assoluta sicurezza organizzativa, sanitaria e clinica Da parte del Presidio ospedaliero Secondo le modalità organizzative previste dal decreto sul punto nascita E la disposizione organizzativa dell'azienda sanitaria Un'equipe sanitaria operata al completo Purtroppo è accaduto Solo anche che ci sono degli accertamenti in corso Questa mattina la Polizia di Stato Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala Ha tratto in arresto Alessandro Maggio, classe 78 Responsabile della violenta rapina in danno del panificio pasticceria Tresor di Contrada Amabilina a Marsala Lo stesso su disposizione del Tribunale della Procura della Repubblica di Marsala È stato ristretto agli arresti domiciliari Gli agenti del commissariato, attraverso un'articolata attività di indagine Hanno dunque individuato anche il secondo autore del grave pestaggio Sfociato poi nella rapina Il primo arrestato, subito dopo la rapina, era stato Daniele Crimi, classe 1985 Una volta messo alle strette ed innanzi ai numerosi ed univoci elementi probatori raccolti a suo carico Il maggio ha deciso di collaborare con gli inquirenti ammettendo le proprie responsabilità L'autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento cautelare Che ha consentito l'arresto del secondo rapinatore Dissequestrato il Selinunte Beach Hotel, la struttura alberghiera a cui erano stati apposti i sigilli Per una presunta truffa con la legge 488 del 92 Ad azzerare l'accusa è stata la sopraggiunta prescrizione del reato Sentiamo Una sentenza scontata E quella emessa dal giudice monocratico Matteo Giacalone nel processo riguardante il caso della contestata truffa ai danni dello Stato Commessa secondo l'accusa attraverso i meccanismi della legge 488 del 92 Nel corso della realizzazione del Selinunte Beach Hotel Ad azzerare l'accusa è stata la prescrizione Come peraltro chiesto dallo stesso PM che calendario alla mano non aveva potuto far altro che rilevare i troppi anni trascorsi dall'epoca dei fatti E così il giudice ha sentenziato il non luogo a procedere con dissequestro dell'albergo In fumo dunque tutto il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza di Castelvetrano e dalla magistratura I legali della difesa avevano comunque chiesto al giudice di pronunciarsi nel merito con una soluzione In caso di prescrizione infatti gli imputati evitata la condanna penale rischiano però di andare incontro a una serie di conseguenze di natura amministrativa In subordine la difesa si accontentava della prescrizione Alla sbarra imprenditori, commercianti e artigiani, fornitori di beni e prestazioni d'opera che avrebbero emesso quelle false fatture necessarie per incassare gli indebiti finanziamenti Tra i reati a vario titolo contestati anche false dichiarazioni ed evasione fiscale imputati un gruppo di persone di Castelvetrano e Marsala i finanziamenti concessi furono di oltre 2 milioni e mezzo di euro La struttura alberghiera prima sequestrata e poi dissequestrata è tuttora in funzione è composta da tre corpi di fabbrica per 88 camere su due piani e cantinato False fatture e false dichiarazioni, secondo gli investigatori indussero i funzionari del Ministero delle Attività Produttive ad autorizzare nel maggio del 2005 l'erogazione di un finanziamento di 934.704 euro a carico del bilancio nazionale e 400.586 euro nel bilancio regionale e poi nel novembre del 2006 di 1.335.292 euro Reati tutti prescritti, quindi anche se restano in piedi rischi di natura amministrativa Nessuna anomalia nelle fideiussioni presentate al comune di Pisa dal gruppo Bulgarella Andrea Bulgarella, costruttore trapanese ma attivo in Toscana in questi mesi è stato coinvolto in un'indagine della DDA Fiorentina Una vicenda che ha creato anche reazioni politiche a Pisa con il gruppo Consiliare Una Città in Comune PRC che ha denunciato l'esistenza di fideiussioni non valide per gli interventi edilizi in corso di ultimazione del Parco delle Torri, della Piazza del Terzo Millennio, dei Frati Vigi e dell'ex colonia Vittorio Emanuele e di un debito del gruppo di 4,2 milioni di euro nei confronti del comune di Pisa Sulla vicenda delle fideiussioni l'avvocato Caterina Poma per conto del gruppo Bulgarella fa sapere che non c'è stata alcuna anomalia Torniamo a parlare del processo penale che vede alla sbarra due medici dell'ospedale di Mazzara ed un medico del 118 accusati rispettivamente di lesioni colpose aggravate e di omicidio colposo Nel corso dell'ultima udienza il GUP ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile da parte di alcune associazioni Le associazioni Codici Sicilia, Ollus e Salute non saranno parte civile nel procedimento penale che vede imputati due medici dell'ospedale di Mazzara Maria Assunta Canino e Francesco Quattrocchi per lesioni colpose aggravate e un loro collega del 118, Pietro Valenti, per omicidio colposo Lo scrive il giornalista Antonio Pizzo che segue le varie fasi del processo Accogliendo le opposizioni delle difese il GUP Riccardo Alcamo ha respinto le loro richieste di costituzione di parte civile Ammessa invece quella dei familiari della vittima del presunto caso di mala sanità il Petrosileno Antonino Santo, ammalato di SLA e tracheostomia morto a 56 anni il 17 gennaio 2013 vittima dell'ennesimo possibile caso di mala sanità Ammesse anche alcune associazioni per i diritti del malato Si è aperta così davanti al GUP di Marsala a Riccardo Alcamo la prima udienza preliminare per decidere sulle richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla procura per un medico del 118, Pietro Valenti, di 59 anni accusato di omicidio colposo e per i suoi due colleghi dell'ospedale Abele Aiello di Mazzara, Maria Assunta Canino, 51 anni e Francesco Quattrocchi, 64 accusati di lesioni personali colpose e aggravate Canino e Quattrocchi il 9 settembre 2010 erano rispettivamente di turno al reparto di pneumologia e al pronto soccorso dell'ospedale mazzarese dove Santo, affetto da SLA e tracheostomia fu trasportato d'urgenza perché non riusciva quasi più a respirare in quanto il ventilatore domiciliare era andato in tilt a causa di una temporanea interruzione dell'energia elettrica per l'accusa i due medici non avrebbero proceduto alla disostruzione della cannula tracheostomica perseguendo l'errata ipotesi che ricollegava i disturbi respiratori al malfunzionamento del ventilatore e per questo il paziente entrò in coma poi fu riportato a casa e oltre due anni dopo il 16 gennaio 2013 a seguito di un'altra crisi fu chiesto l'intervento del 118 che inviò un'ambulanza con medico a bordo Pietro Valenti che però, sempre secondo gli investigatori nonostante le gravi condizioni del paziente non ne avrebbe disposto l'immediato ricovero in ospedale e ciò sarebbe stato alla base di un ritardo diagnostico terapeutico con conseguente decesso il giorno successivo prossima udienza è il 16 dicembre bene, apriamo la pagina politica e parliamo della sfiducia al governatore Rosario Crocetta l'Assemblea regionale siciliana firmano in 25 fra deputati del Movimento 5 Stelle ed altri deputati in forma trasversale il servizio 25 firme e questa la quota già raggiunta dalla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Rosario Crocetta che il Movimento 5 Stelle presenterà all'Ars 25 era il numero necessario per portarla in aula e per raggiungere questo obiettivo la mozione è diventata anche trasversale oltre al gruppo pentastellato infatti hanno aderito e sono quindi pronte a votarla anche gli otto deputati di Forza Italia poi Nello Musumeci e Giovanni Ioppolo della lista Musumeci e giro la mofazio del gruppo misto la mozione dopo essere stata presentata arriverà in aula per la discussione e il voto la data sarà certamente dopo l'8 dicembre siamo consci, dicono i deputati grillini che il Bostic è nettamente più forte di tutte le malefatte di Crocetta noi però non potevamo non provarci lo dovevamo ai siciliani quantomeno faremo uscire allo scoperto i veri nemici della Sicilia e chi qui dentro recita solo una parte sull'argomento sfiducia interviene anche il neocommissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miciche al fallimento del quarto tentativo di governo della Sicilia in tre anni dice da parte del presidente Crocetta e di una maggioranza sconclusionata e avida di potere di fronte a risultati disastrosi Forza Italia da seguito a quanto preannunciato nel luglio scorso presentando la mozione di sfiducia nei confronti del governatore con l'obiettivo di chiudere definitivamente la porta alla peggiore gestione di sempre ormai Crocetta, prosegue Miciche è un pupo nelle mani del PD e dell'UDC partiti che si stanno mangiando la Sicilia la mozione di sfiducia è una scelta obbligata alla quale ci richiamano la nostra degnità e i nostri elettori Esubero di personale al Libero Consorzio Comunale di Trapani e così 27 dipendenti che hanno maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico in base alla normativa previgente alla cosiddetta legge Fornero lasceranno il servizio a fine anno la ricognizione fra gli uffici provinciali si è fatta dopo che il commissario dell'ente Giuseppe Amato ha dichiarato la eccedenza di personale per motivi finanziari L'assessore regionale Vagna Contrafatto invece ha rimesso in discussione tutta la procedura che sta alla base della formazione delle SRR Sentiamo Le dotazioni organiche devono indicare precisamente funzioni, mansioni fabbisogno e sostenibilità economica non è più il tempo delle furbate L'assessore regionale ai rifiuti Vagna Contrafatto ha rimesso in discussione tutta la procedura che sta alla base della formazione delle SRR le società pubbliche fondate dai comuni che si occuperanno del servizio di raccolta e smaltimento Si apre così un caso che riguarda circa 11.000 dipendenti dei vecchi Ato che stavano transitando indisturbati verso le SRR Gli Ato erano 27 le SRR sono 18 e in questo momento solo 4 Calat, Catania Metropolitana, Trapani Nord Messina e Olie sono del tutto in regola con le procedure per l'assunzione del personale e la gestione del servizio Per queste realtà manca solo la gara d'appalto per trovare le aziende private che svolgano materialmente il servizio e che dovranno collaborare nell'assorbimento del vecchio personale del liato Il problema nasce per tutte le altre SRR che hanno semplicemente fatto un anagrafo dei vecchi dipendenti e accettato che vengano assorbiti Una procedura che, secondo l'assessorato non può funzionare serve un piano che preveda la copertura integrale dei costi del personale Nei giorni scorsi l'assessorato ha bocciato gran parte delle piante organiche che sono pervenute e la contrafatto è stata costretta a diramare una nuova direttiva con cui obbliga le SRR a riscrivere gli atti tenendo conto degli oneri complessivi per il personale che dovranno essere coperti dalle entrate del piano tariffario Pertanto la tariffa dovrà garantire il principio di economicità del piano industriale incluso il costo del personale Ma l'assessore avverte anche che non si potrà semplicemente aumentare la tariffa dunque i costi a carico dei cittadini per coprire 11.000 stipendi Il movimento politico Io amo Campobello esprime piena solidarietà al personale della Polizia Municipale e da tutto il personale del comune di Campobello di Mazzara che a tutt'oggi non ha riscosso il salario accessorio 2014 I vigili urbani del nostro comune scrivono dal movimento hanno dovuto fare notificare al sindaco un decreto ingiuntivo per tutelare il proprio salario Il movimento politico Io amo Campobello inoltrerà all'autorità competente tutte le opposizioni in questione e le relative sentenze che potranno produrre un danno erariale pubblico L'area dell'ex cantiere navale di Trapani sarà concessa all'imprenditore Renato Marconi tutti i dettagli della vicenda in questo servizio L'area dell'ex cantiere navale di Trapani sarà concessa all'imprenditore Renato Marconi che con le sue società Marina2SRL e MarineleSPA opera nel settore delle attività portuali Si conclude così l'iter avviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'assegnazione dell'area Alla selezione avevano partecipato anche due società trapanesi la cooperativa formata dagli ex lavoratori della Satin e la Bot Service del gruppo ricevuto Nella fase iniziale della selezione l'istanza presentata dall'imprenditore romano aveva rischiato di essere escluse ed è stata riammessa dopo la presentazione della documentazione aggiuntiva richiesta Nel corso del procedimento avevano fatto un passo indietro alcune società collegate all'imprenditore Gaspare Panfalone e anche la Marina Iot Trapani A dare notizia della decisione del Ministero è stato il deputato regionale Lino Oddo che l'ha presa dal Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini suo compagno di partito nel Partito Socialista una decisione che mette un punto fermo su una vicenda che si era potratta per troppo tempo ha commentato Oddo che prosegue è chiaro che il territorio avrebbe gradito di più una soluzione locale ma i parametri del Ministero tengono conto di valori e dimensioni tecnici il dato positivo è che quell'area del porto di Trapani tornerà a essere produttiva e la società che la gestirà dovrà necessariamente utilizzare mano d'opera locale Una delegazione tecnico-scientifica della Guinea Equatoriale guidata dalla direttore generale della pesca Andres Ndong-Micha ed accompagnata dall'ambasciatore in Italia Cecilia Obonondong è stata ieri in visita presso le strutture produttive e scientifiche del distretto della pesca La missione della delegazione rappresenta un'ulteriore tappa della cooperazione scientifica e tecnica nella filiera ittica e più in generale nel settore marittimo secondo i principi della Blue Economy avviata fra lo Stato africano ed il distretto della pesca a seguito dell'accordo di cooperazione firmato nel febbraio 2014 a Malabo fra il Ministero della pesca della Guinea Equatoriale ed il Presidente del distretto produttivo della pesca siciliano Giovanni Tumbiolo Il governo della Guinea Equatoriale paese emergente ha più volte ribadito il proprio interesse per il know-how sviluppato nelle strutture produttive del distretto della pesca Adesso invece parliamo di un tema decisamente delicato ed attuale come quello dell'immigrazione Un recente rapporto regionale ha esplicitato tutti i numeri del fenomeno in Sicilia Quanti stranieri vivono in Sicilia? Da quali paesi arrivano? Quanti sono i maschi e quanti le femmine? E quanti vivono nelle singole province? A tutti questi quesiti statistici ha dato risposta il dossier Gli stranieri in Sicilia tra residenza e migrazione contenuto nella relazione sulla situazione economica della regione siciliana presentato dall'assessorato all'economia servizio statistica ed analisi economica della regione siciliana Il rapporto dice che alla fine del 2014 i cittadini non italiani residenti in Sicilia erano 174.116 così divisi 88.756 maschi e 85.362 femmine e in totale rappresentano il 3,4% dei residenti un dato che negli ultimi anni si conferma in crescita Mediamente in Sicilia ogni 1.000 abitanti quasi 33 sono stranieri La diversa distribuzione degli stranieri nelle nuove province siciliane è strettamente collegata oltre alla capacità demografica della provincia di residenza anche alle sue peculiarità produttive ed economiche Palermo è la provincia con il maggior numero di presenze con 35.600 nuovi stranieri in provincia di Trapani sono 16.402 i paesi di provenienza la comunità romena è quella più numerosa tra le prime 10 stranieri in Sicilia dove vivono 50.772 romeni segue la Tunisia 18.085 e il Marocco 14.566 e proprio il tema dell'immigrazione in particolare lo studio dei flussi migratori dall'Africa verso la nostra terra sarà il centro del convegno che si terrà questo pomeriggio con inizio alle 17.30 presso la sala conferenza del complesso monumentale San Pietro di Marsala al convegno preteneranno parte oltre agli amministratori marsalesi il prefetto Leopoldo Falco nonché Luca Di Sciullo rappresentante dell'IDOS e Abedal Carem Annaki dell'Università degli Studi di Enna Core Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto Erice Batticuore lotta per la vita la campagna di sensibilizzazione sulle patologie cardiache e per favorire la diffusione e l'utilizzo di apparecchi defibrillatori avviata nello scorso mese di ottobre dall'amministrazione comunale di Erice il sindaco Giacomo Tranchida ha consegnato quattro defibrillatori semiautomatici ai dirigenti scolastici di quattro istituti del comune di Erice da destinarsi alle palestre scolastiche sprovviste di tali attrezzature questo pomeriggio alle ore 17.30 presso il Teatro Garibaldi di Mazzara si terrà un incontro dibattito sul tema La Casba di Mazzara etnografia di uno spazio della migrazione nel corso dell'evento organizzato dall'Istituto Euroarabo in collaborazione con l'Associazione Alchimie e con il patrocinio del comune di Mazzara del Vallo saranno presentati i risultati di una ricerca condotta da Francesca Rizzo laureata in antropologia culturale sul quartiere mazzarese della Casba particolarmente denso di memorie storiche e di rilevante interesse sociale e culturale per la presenza di diverse comunità etniche interverranno oltre all'autrice della ricerca il sindaco Nicola Cristaldi e l'architetto Gianni Di Matteo Appuntamento con la natura domani 29 novembre con la seconda escursione del circolo Lega Ambiente di Marsala Petrosino alla riserva naturale orientata Foce del Fiume Belice il percorso della durata di circa 4 ore si svolgerà su sentieri e strade vicinali ed è accessibile a tutti visto il basso livello di difficoltà domenica 29 novembre alle ore 18 al numero 43 di via 11 maggio a Marsala appuntamento con Book Wine e Music la rassegna dedicata agli aperitivi con l'autore ospite gradito Danilo Fodale nel corso dell'incontro lo stesso Fodale interpreterà passi del suo libro Di Mattin Diario pubblicato dalla casa editrice Abate il musicista Piero Di Dia curerà gli interventi musicali domenica 29 novembre si riaccendono le luci del baluardo Velasco per ospitare il secondo appuntamento in cartellone della rassegna baluarte 2015-2016 un ritorno atteso e gradito quello dell'attore palermitano Sandro Di Eli che con la sua personale rilettura delle metamorfosi di Ovidio andrà in scena nel piccolo teatro marsalese i lavori della settimana della cultura del liceo classico Gian Giacomo Adria e del liceo scientifico ballatore si concluderanno martedì primo dicembre con Un mare di storie percorso letterario teatrale autori del novecento l'incontro rivolto alle classi quinte si svolgerà a partire dalle ore 8 e 30 presso l'aula consigliare del comune di Mazzara del Vallo apriamo la nostra pagina dedicata allo sport rifinitura mattutina per la pallacanestro Trapani in vista del sesto impegno interno del campionato domani domenica 29 novembre la compagine guidata da coach Ducarello giocherà al palacon contro Biella nella gara valida per la decima giornata del campionato di serie A2 girone ovest si giocherà oggi pomeriggio invece la prima delle due trasferte della nuova pallacanestro Marsala nel Messinese oggi a partire dalle ore 18 Frisella e compagni saranno a casa della cestistica Torre Novese Aquila in una gara arbitrata dai signori Gianluca Centorrino di Venetico e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto con l'adesione del quarto circolo didattico Giovanni Battista Quinci al progetto denominato Basque at School promosso dalla Virtus pallacanestro Mazzara si allarga il numero di bambini che si confronteranno con lo sport della pallacanestro attraverso una stretta collaborazione fra gli istruttori dell'associazione sportiva e dai docenti di attività motoria dell'istituto scolastico il presidente della Virtus pallacanestro Mazzara Alberto Ditta ringrazia il dirigente scolastico la professoressa Nicolina Drago per averla sposato l'iniziativa che verrà subito avviata a decorrere da lunedì prossimo a favore degli alunni delle classi terze, quarte e quinte dei plessi Giovanni Battista Quinci e Rizzo Marino di Mazzara del Ballo il referente di progetto per l'istituto scolastico è l'insegnante Antonino Pisciotta lasciamo la pallacanestro passiamo alla calcio lo sport club Marsala 1912 comunica che il difensore Valerio Genesio ha deciso di abbandonare la rosa di prima squadra e pertanto con effetto immediato non fa più parte dell'organico a disposizione di mister Pergolizzi il centrocampista Marco Licausi è invece tornato a far parte dell'organico della prima squadra il ragazzo che lo scorso 21 ottobre aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo un nuovo incontro con il direttore generale Matteo Gerardi è tornato ad allenarsi con la squadra Licausi torna dunque a disposizione di mister Pergolizzi si gioca in questo fine settimana invece la dodicesima giornata del campionato regionale di eccellenza si comincia oggi con l'anticipo fra Parmonval e Cuspalermo si prosegue domani con gli altri incontri in programma ovvero Gela Profavara Camarat Folgore Libertas Campofranco Mazzara Castelbuono Mussomeli Dattilo Paceco Raffadali e San Cataldese Alba Alcamo rivoluzione in casa Folgore Selinunte nella giornata di ieri infatti l'allenatore della prima squadra Alberto Amoroso ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico per motivi familiari ma sentiamo un passaggio dell'intervista con la quale l'ex tecnico ha spiegato le proprie ragioni ed ha salutato tutto l'ambiente rosso-nero Saluto tutti gli sportivi anzitutto tutti i tifosi Folgorini e non in questo momento sono all'ascolto sono qua insomma non più nella veste di allenatore della Folgore Selinunte perché in questo momento ha rassegnato le dimissioni dall'incarico che mi vede alla guida della squadra per motivi personali per motivi familiari non posso più adempiere a questo compito per cui è giusto che ci sia un altro che abbia la disponibilità io finora fino all'ultimo momento sono stato come dire orgoglioso di ricoprire questo incarico in questi 120 giorni e anche prima nella costruzione della squadra ho messo tutto me stesso ho dato tutta la mia esperienza tutta la mia disponibilità tutta la mia professionalità quindi abbiamo raggiunto degli ottimi risultati io credo che la società alla quale va il mio ringraziamento per come dire avermi dato questa possibilità io credo che insomma spero che sia un arrivederci da parte di tutti perché stiamo facendo qualcosa di interessante io credo che la società sia molto attenta a far sì che questo possa continuare questo poi sarà il compito dei guardi dirigenziali del presidente Renieri e dei suoi collaboratori cercare di far guardare il cerchio ripeto per me purtroppo ci sono più i presupposti per poter rimanere la cosa mi dispiace però problemi familiari mi portano lontano problemi situazioni familiari insomma che non sono riconducibili ad un microciclo settimanale ad un microciclo annuale di allenamenti quindi a mal in cuore devo come dire ratificare le mie dimissioni e devo facendolo in bocca al lupo e ringraziando nuovamente la Folgore Sedinunte per l'occasione mi ha dato i miei ragazzi i ragazzi che sono ancora miei perché lo sono lo sono che ho salutato nello spogliatoio quindi a mal in cuore ho comunicato con qualche lacrima che magari così qualche fruttiva lacrima che è uscita Alla luce delle dimissioni irrevocabili del signor Alberto Amoroso la SD Folgore Sedinunte rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra alla signora Tarcisio Catanese questa la nota diffusa ieri dalla società Folgorina il nuovo allenatore nato a Palermo il 6 settembre del 67 vanta un trascorso da calciatore di tutto rispetto nel suo curriculum da calciatore spiccano le 45 presenze ed i due gol totalizzati in serie A con la maglia del Parma ed una Coppa Italia vinta sempre con i Ducali nella sua esperienza ad allenatore invece fa bella mostra il campionato d'eccellenza vinto alla guida del Trapani nella stagione 2007-2008 essere chiamato sulla panchina della Folgore per me è stata una grande sorpresa subentrare a campionato in corsa e trovare una squadra al terzo posto in classifica è una cosa piuttosto insolita sono queste le prime parole di Tarcisio Catanese che ha poi aggiunto da parte mia c'è grande entusiasmo e voglia di proseguire il progetto illustratomi dal presidente Gaspare Raineri ma lasciamo la Folgore è trascorsa un'altra settimana di lavoro intenso in casa Paceco in vista del match di domani con il Raffadali che si disputerà al Mancuso di Paceco a partire dalle ore 15 una gara da non sottovalutare per i ragazzi di Massimiliano Mazzara visto il calibro tecnico dell'organico e la competenza dell'allenatore del Raffadali Pino Labianca non sarà della partita a Iuculano a causa di una squalifica e domani al Nino Vaccara esordio in panchina per il tecnico del Mazzara Tommaso Napoli ma le novità non finiscono qui infatti i canarini nella mattinata di oggi hanno annunciato il rientro dal prestito del difensore Valerio Genesio già a disposizione del nuovo allenatore Salvatore Giacalone eccoci alla prima partita del nuovo tecnico Tommaso Napoli dopo l'esonore di Nicola Terranova ha ricevuto l'incarico domenica scorsa e da martedì allena la squadra nella conferenza stampa di presentazione di giovedì sera non si è dichiarato l'uomo dei miracoli ma ha detto che Mazzara ha un buon gruppo di giocatori e su quello dovrà lavorare fino a quando la società non gli metterà a disposizione altri giocatori per tentare il salto di categoria al quale il presidente era bagnato tiene molto nel calcio non c'è nulla di definitivo dice il tecnico vede un campionato equilibrato con alcune squadre molto attrezzate la squadra che affronteremo domani il Castelbuono è da prendere con le pinze basta vedere i risultati delle 11 partite disputate la squadra allenata da Ricca ha 19 punti in classifica come il Mazzara ha vinto 5 volte di cui 2 in trasferta 2 le sconfitte 4 i pareggi ha messo a segno 13 gol ne ha subiti 8 è quasi lo stesso cammino del Mazzara che ha gli stessi punti in classifica Napoli conosce i giocatori del Mazzara e li ha visti giocare un paio di volte e si è fatta già un'idea che però non svela dice soltanto che predilige giocare con 4 difensori nell'amichevole di giovedì contro Stasatta ha provato un 4-3-3 ma potrebbe ripiegare su due mediane e una punta saranno assenti Cammarere e Derbini il quale sta accelerando i tempi di recupero per ritornare a breve in campo e non sarebbe una soppria di vederlo domani negli ultimi minuti Ferragane dopo un periodo di assenza da martedì si è aggregata alla squadra non è nelle migliori condizioni fisiche non sarà della partita neanche Palazzo alle prese con la febbre contro il ben organizzato Castelbuono dice l'allenatore daremo il meglio per ottenere la vittoria e poi pensare alla gara di semifinale di andata di Coppa Italia che si svolgerà mercoledì 2 dicembre a Gela con ritorno il 18 dicembre al Ninovacara importante sarà il sostegno della nostra tifoseria che dovrà starci vicino e aiutare a vincere intanto questa mattina la società Mazzara Calce ha comunicato il ritorno in giallo-blu del difensore Valerio Genesio classe 87 tornato dal prestito dello sport club di Marsala 1912 il giocatore già stamattina si è aggregato alla squadra agli ordini di mister Tommaso Napoli disputando la rifinitura con i suoi vecchi compagni Genesio risulta tra i convocati della gara di domani contro l'Apoli sportiva Castelbuono domani inizio gara ore 15 arbitro Giuseppe Tarallo di Agrigento assistenti Salvatore Damiano e Francesco Piccichè di Trabani Bene lasciamo anche il calcio domani a Mazzara si svolgerà il trofeo ciclistico per mountain bike circuito degli assi organizzato dall'associazione ciclistica Val di Mazzara con il patrocinio della città di Mazzara del Vallo la competizione valevole come prova unica del campionato regionale fuoristrada è aperta a tutti gli enti della consulta nazionale ai vincitori assoluti saranno assegnate la maglia di campione regionale mountain bike 2015 e la maglia Gran Premio Sicilia mountain bike asi la gara è articolata in un'unica batteria il ritrovo della giuria del direttore di gara e di tutti i corridori è previsto alle ore 7.45 presso il santuario Gesù ti ama apri il tuo cuore addio in contrada bocca giletto San Nicola bene noi ci fermiamo qui grazie per la cortese attenzione a tutti voi un buon fine settimana